Musica Buonasera e bentornati a questo appuntamento con l'informazione locale. La cronaca è scattato oggi all'alba un nuovo servizio straordinario di controllo dei carabinieri di Rimini che ha coinvolto 30 militari e 2 ispettori dell'Ausl. Nel Mirino ancora l'abusivismo e il sovraffollamento tra le abitazioni controllate in via Giusti, in zona Tripoli, in via Gambalunga e in via Baronzio, in zona Pascoli. Erano veri e propri dormitori. In alcuni c'erano addirittura 17 letti stipati in ogni angolo tra sporcizia, cibo, abiti, pentole, mazzi di rose, ombrelli e soprattutto merce contraffatta. Sono stati controllati 34 cittadini del Bangladesh, 8 sono stati fotosegnalati perché non censiti in banca dati e 2 denunciati a piede libero perché inottemperanti a precedente ordine di espulsione. L'ingente quantità di materiale sequestrato è risultata in molti casi contraffatta e non rispondente alle normative europee. Sono state contestate 13 sanzioni amministrative in relazione all'ordinanza del Comune di Rimini sul sovraffollamento per un totale di 1.050 euro. I proprietari, tutti italiani e di Rimini, sono stati segnalati all'Ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza per le irregolarità nei contratti di locazione. In un caso è emerso che i locatari pagavano in nero un affitto mensile tre volte superiore a quello previsto dal contratto, che consisteva in una mera scrittura privata. Questa mattina è stato ufficialmente aperto il collegamento tra Via Sozzi e Via Sacramora, Traviserba e Rivabella, un progetto nato nell'allora circoscrizione 5 nel 1995, che ha poi attraversato le giunte Chichi e Ravaioli fino ad oggi. Il tratto collega la rotatoria tra Via Zangheri e Via Maestri del Lavoro, di cui conserva il nome, con la rotatoria tra Via Sacramora e Via 25 Settembre. A breve sarà pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori della Bretella, che collegherà la rotatoria di Via Zangheri e Maestri del Lavoro al parcheggio nord-ovest del cimitero monumentale, offrendo così un accesso diretto dalla zona nord. Apertura prevista per i primi giorni di novembre. I lavori sono stati eseguiti dalla CBR, così come quelli per il ponte di Via Coletti, che aprirà domani alle 8 dopo 109 giorni di lavori rispetto ai 120 previsti da contratto. E per l'occasione il ponte sarà addobbato con 200 metri di tulle rosa montati sulle balaustre in legno. Il sogno continua con gli amici dei delfini. E questo è lo slogan del delfinario di Rimini, che annuncia l'apertura, a dieci mesi dalla chiusura, dopo il sequestro dei Tursiopi, per sabato alle 16 con il primo spettacolo dei Leoni Marini, e lancia il nuovo sito leonimarini.it. Fino al 7 settembre ci saranno quattro spettacoli giornalieri, alle 11, 16, 18 e 22. Poi fino a ottobre gli spettacoli continueranno a numero ridotto. Previste anche iniziative didattiche rivolte alle scuole. E all'interno ci sarà un Dolphin Shop per la vendita di gadget. La struttura sul sito si definisce con la nuova formula di acquario, come da autorizzazione rilasciata dal comune di Rimini. Sabato alle 15 davanti al delfinario è prevista una nuova manifestazione di protesta degli animalisti. È stato presentato questa mattina a Sansepolcro il progetto Le Terre di Piero della Francesca, percorsi e itinerari d'arte che uniscono Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Tra i luoghi di maggior interesse è anche l'opera dell'artista custodita nel Tempio Malatestiano. È da Sansepolcro, sua città natale, fonte di ispirazione di molte delle sue opere, che parte il progetto Le Terre di Piero della Francesca, che vuole unire tra loro i luoghi dove il grande artista del Quattrocento italiano ha lasciato il segno. Dal borgo della Val Tiberina, itinerari culturali e turistici verso Arezzo, Monterchi, Urbino, San Leo, fino ad arrivare al Tempio Malatestiano di Rimini. Tentiamo di fare un circuito che vada al di là dei personalismi, dei particolarismi, dei campanili, e possa sfruttare al meglio le grandi potenzialità valorizzandole che queste regioni offrono, dal punto di vista indubbiamente culturale, artistico, ma anche dal punto di vista paesaggistico, ambientale, dal punto di vista dei prodotti tipici, l'enogastronomia. Da qui oggi parte la volontà di offrire al turista del mercato europeo, mondiale, una vacanza molto particolare, un ambiente molto ben conservato, qui si possono trovare ancora i paesaggi che ha dipinto Piero della Francesca, quindi un'emozione nella emozione, e insieme stiamo facendo un percorso consapevoli che il turismo italiano ha bisogno di compagni di viaggio. Forse da soli si va più veloci, ma insieme più lontano. Il progetto che vede insieme quattro regioni, Toscana, Emilia-Romagna, Marche ed Umbria, sarà presentato in fiere nazionali ed internazionali e avrà una vetrina all'Expo. Piero della Francesca ha infatti un ascendente importante sui turisti stranieri ed è particolarmente amato da americani ed inglesi. Negli ultimi 5-6 anni ci sono state 3 o 4 mostre, una a Londra, due a New York e poi in varie altre città americane che hanno rinforzato l'immagine di questo artista, tra l'altro anche con riscontri di presenze turistiche di americani e inglesi, in particolare che sono aumentate nelle località che ospitano le opere di Piero. Siamo agli eventi, si chiude domani sera, in occasione della Notte Rosa a Riccione, la dodicesima edizione del Festival del Sole, manifestazione internazionale dedicata alla ginnastica. Domani sera ci sarà un evento speciale per salutare questa edizione che si è aperta domenica scorsa. Vediamo. 4.800 atleti, dai giovanissimi alle signore di mezza età, ma anche atleti speciali come i gruppi di giovani disabili che al Festival del Sole di Riccione hanno potuto mostrare, applauditi, il frutto di mesi di preparazione. Anche perché l'evento non è solo esibizione, ma anche socializzazione tra i gruppi che arrivano da tutta Europa e non solo. Quest'anno, oltre alle 5 erene all'aperto, si è affiancato anche un vero e proprio villaggio del Festival. 150 ore di esibizioni, tutte a ingresso libero, tra corpo libero, aerobica, acrogimia e acrobatica, ginnastica ritmica e artistica, danza classica e moderna, hip-hop e funky. Gran finale per la Notte Rosa con l'esibizione della ballerina professionista Anna Rosa Petri e l'etuale mondiale Raffaele Paganini di Well Dance, la disciplina da loro inventata. Per salutare, insieme ai 50 gruppi di ginnasti da 16 paesi, la dodicesima edizione del più grande festival di danza del Mediterraneo. E di acrobazia parliamo anche con Cartoon Club, il festival internazionale del fumetto che si apre a Rimini. Saranno ospiti dei protagonisti internazionali del parkour, una disciplina nata 30 anni fa nelle città francesi, una disciplina particolare e spettacolare. Ci saranno esibizioni anche in spiaggia, a Rimini, al Turquase, tre giorni dedicati anche alla formazione perché si vuole avvicinare a questa particolare disciplina. Oggi sono stati ospiti dei nostri studi uno degli organizzatori di Rimini che appunto ha avuto l'idea di abbinare i supereroi dei fumetti a questa disciplina e due protagonisti del parkour dalla Spagna. Per qualcuno è uno stile di vita, come per me e per il mio team. È anche un modo di pensare, per altre persone è semplicemente uno sport o un hobby. Se lo prendi come uno sport, significa andare dal punto A al punto B nel modo più veloce e diretto possibile. È solo questo. Il parkour è un modo di allenarsi, un modo di vivere, è un modo per essere pronti a qualsiasi cosa. Non è solo questione di ostacoli fisici o di saltare, ma di essere pronti per la vita. In strada puoi solo provare a saltare i muri, ma poi c'è un altro muro. È qualcosa che serve a prepararsi alla vita. Non è il fatto di essere il migliore o di fare di più degli altri. È solo questione di prepararti per te stesso e fare quello che riesci a fare. Il ride è cartone animati come Spider-Man e altri che fanno dei movimenti molto simili al parkour. E quindi è nato questo progetto e questa collaborazione tra la Cartoon Club e il nostro gruppo di parkour e abbiamo deciso di chiamare i ragazzi del gruppo Foschi e Shobu che sono stati disponibilissimi a venire. Mi è sempre piaciuto Batman, ma solo per i soldi che ha. Forse non è un buon esempio. Certo, a tutti piace Spider-Man oppure Dragon Ball. Quando ero bambino e lo vedevo mi dicevo è un grande, voglio diventare qualcosa del genere. Oggi penso, ok, non sono un supereroe, ma voglio davvero arrivare al gradino successivo. vedo la gente in strada che cammina normalmente, sale le scale normalmente e io posso fare qualcosa di diverso. E siamo al calcio, presentazione ufficiale oggi per Salvatore Campilongo, il nuovo tecnico del Rimini. Sono qui perché mi ha convinto il progetto e Suri Chiuti ha detto è un giocatore eccezionale. Il suo vice sarà Marco Arno, il preparatore atletico Franco Cotugno. Durante l'incontro con la stampa il presidente De Meis ha parlato anche di nuovi spiragli per il ripescaggio del Rimini. La conferenza stampa sarà trasmessa su Icaro TV questa sera alle 22.45. Vediamo l'intervista al nuovo tecnico. Mi è piaciuto subito il progetto, la voglia di ripartire e di fare cose importanti di un grande progetto dove si può fare bene con grandissima qualità. Quindi credo che questa sia stata la mia scelta. Ha detto che vuole creare un rapporto importante con la città e con i tifosi. Sì ma non a parole, questo sicuramente è il campo quello che deve essere la spinta determinante. Io dove sono stato con le mie squadre ho sempre avuto questo connubio di trascinare la mia squadra nel progetto della tifoseria. È la stessa cosa la tifoseria che si è innamorata della squadra per quello che riusciva a dimostrare in campo. Al di là del risultato ma di quello che potevano esprimere i miei calciatori sudando la maglia, correndo, onorandola. Poi al di là del risultato questo non significa che o perdi o vinci. Però io credo che la tifoseria deve apprezzare questa qualità di una squadra, di questo gruppo. Io questo vorrei ricreare. Proprio questa cosa qua. Mi farebbe veramente piacere fare questo. E sono sicuro che scegliendo gli uomini giusti come in mente penso che poi lo possiamo fare. Dal punto di vista tattico come giocherà il suo Rimini? Innanzitutto la squadra che andiamo a costruire la andiamo a costruire con una grandissima qualità quella di essere una squadra che si deve calare in questa mentalità. La squadra mia non deve avere il profumo addosso. La squadra mia deve essere una squadra che deve avere senza profumo. La squadra mia deve essere una squadra dove gioca con intensità, con grandissima aggressività. È una squadra che deve deve imporre il proprio gioco. È anche nei momenti in cui di difficoltà ma deve dimostrare che col sacrificio, con la corsa, con la cattiveria si possono raggiungere dei risultati. Il mio modo di gioco, il mio sistema è il 4-3. Poi nel corso delle gare e anche degli uomini a disposizione nel contesto della gara si può sempre cambiare. E con il calcio da uomini veri di Campi Longo siamo arrivati in conclusione a seguire il meteo. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti